se si fai la finestra vieni giù qua perché vogliamo tenere tutte le prospettive se no io da là ne possiamo fregare l'occhio facciamo sta cosa qua perché ora mettiamo un'altra e andiamo giù Dio che al bel zebulo non gliela fai manco morto bello che so da là ma scusa le becchino quante ne vuoi prospettive casa roba allora posso andare in dentro adesso tu hai già l'immagine nella tua testa no ma è fatto di disegnare con le prospettive giuste per una delle belle no ma io avessi dovuto farlo avrei dovuto farlo con la prendere le misure col metro dove invece tutto tac 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 tutto a occia perfetto come dai pal ha il gusto si sposta l'occhio di un cannelletto beh con la grondaglia mi faccio 20 mila volumi e in realtà sono tutti portati facciamo un grattacielo qua, dai che mi diverte sta cosa portiamo via l'occhio per dire che prospettive un po' un po' un po' morbose un minimese che fai quel cazzo che vuoi è il massimo della vita devo andare dritto questi così tutti i rolli o cazzo i silani la e il tetto perchè fa quell'angolo? potrebbe essere invece che fai le dritte proprio fai venire fuori e ti sposta tutta la visione che fai venire fuori un muretto che pezzo ne so questo qua c'è anche fuori che è una casa mia mi sto riprendendo anche l'intorno dove ci troviamo fuori questa casa di legno qua 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 davanti e qua che va sempre più lontano di legno qua 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 poi qualcuno si spaga però fai cambiarlo vieni in Messico fuori la minchia che vuoi che vuoi la teola e non teola di un tetto che non sai bene cosa è la tua velocità è quella che ti permette lavorare i tubi di accesso perché lì hai pochi istanti perché siano manneabili esatto a monte vecchio se non sei rapidissimo esatto a monte come dice la bonifacio non so come fai ciccio o hai le mani che non senti il caldo perché bruciano lì o che li tengo un po' io sulle mani ma dopo non del massimo la gronda andiamo fuori sulla andiamo fuori sulla già sulle case al mare siamo a fare io la montagna si guarda ecco ti faccio aspetta perché questo è la big mare se trovassi per un istante mi sono preso per la cera gli faccio un effetto questo vecchio o mai ho finito la matita che mi serviva di più perché mi sono sto spaziando da un'altra parte insomma gli uovo un po' la mia casetta posso riduggerla qua volevo farci una una roba del genere mira venchio vieni in Messico e fai quel cazzo che vuoi mi ha detto il qui presente marco alias ciulel no perché qua ho visto che c'è un buco giusto allora io per complicarmi la vita ci faccio il portafiori porca di una puttana e come ti sei avvicinato cazzo e qua ce lo faccio visto davanti cari miei artisti e non faccio il nome del paese perché ci devo tornare iniziando con la cera e finendo con qui iniziando da da qua perché no facciamo un portafiori con poco ferro perché dentro alla mia ora ti devo mettere la mia bella piantina di fiori di quel biondo oddio e qua facciamo i fiori dopo però prima devo colorare qua però noi vecchio andiamo dalla montagna andiamo dalla montagna vorrei il mare sì ok però ricuerda questo lo faccio sopra il muro e dietro ci facciamo la finestra e facciamo proprio la finestra gigantesca no basta qua però qua possiamo decorare tirolo vai graffitti del cazzo così roba di se va col mondo di una roba del genere può se ora facciamo la finestra dietro dai capelli rossi dai finanzi 25 30 mila euro del progetto che fu una bella roba non posso non si è già arrivato sono centrato sul disegno alla mia no no ho notte i capelli rossi va no 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 pensa che fumetti vecchio no che siamo cresciuti ce lo sono anche qui quei musiciali di giapponesi non be però mi piace come pop odio cazzo c'è un bella elisa che laggiù sono sempre nobili comunque non è che siano mai fuori alle righe spesso anche piace così io mi ho trovato da dio anch'io beh dove sei stato tu in giappone ah no io pensavo lo stesso qua la sensazione è la stessa qua ci mettiamo i fiori e guardiamo in un'altra dimensione per essere proprio macabro potrei fare questo legno venire tu con tre robette così che allora ti prende ancora di più la montagna guarda la montagna spettacolo nello spettacolo un film movie mira domani mattina quando mi alzo mi sento chi 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 potrei farlo qua su bianco eh tic cosa la casa qua potrei buttare fuori no tu che dici o se di noi gallo la prima proprio col gallo quello che gira col sole alla mia roba il gallo che gira col sole ti faccio color rame ahahahahahah proviamo anche il rame vecchio andiamo ahahahahah e ci vedete oh caro fai quello che vuoi di maledetta quella volta adesso vecchio tiriamo fuori il ferro battuto qua questa andiamo andiamo a mostra artigianato mira qua si muovano esposizione al messico ma noi pennelli ma stai filmando? si ma noi pennelli cara bonifacio allora dato che ma le dita però ci avemo in it il pollice verde si in caso qua è nero si ma non ti casare più di tanto perché è casuale il colore però mira cosa te sto a fa tutto in ferro battuto tutto in ferro battuto signori come vanno a marchi praticamente signori d'accordo tec ten 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 ferro battuto mettiamo anche le borchie ci mettiamo la la devo andare a fare il 46 vecchio tieni il filmato acceso che gli romandiamo a valentino rossi fatta quello ne faccio un altro dai penso già 15 minuti e faccio quando parto con numero tirami giupi perché si si vale il romano